Scandicci ha abbastanza spazio dove portare i cani? Sì. No, perché io vengo con la macchina. E quest'aria attrezzata verso i cani è utile? Sì, è utile. Ottimissima perché ho 70 anni dalla mattina e dalla sera. Prima di lui avevo già un bastardino per 18 anni, quindi insomma sono sempre provata. Però quest'aria dedicata ai soli amici a quattro zampe? Manca un lampione per la notte, perché quando comincia a fa buio qui è completamente buio. Manca la luce, poi l'acqua è vicino, perché è tutto in uso. L'importante è avere delle accortezze, raccogliere bisognini, non lasciarle libere quando ci sono troppi limbi. La mattina è pieno, la sera è pienissimo. Credo sia utilissimo. La notte non viene quasi nessuno, perché non c'è luce. Si corre. La notte non viene quasi nessuno, perché non c'è luce, perché non c'è luce, perché non c'è luce, perché non c'è luce, perché non c'è luce. La notte non c'è luce.